Tutti al mare ma in piena sicurezza. Da domenica le spiagge sassaresi di Plattamona, Portoferro e Argentiera fino ad arrivare alla frana verranno tenute sotto controllo grazie all'impegno di 16 agenti della pulizia locale che tutti i giorni, compresi fine settimana, vigileranno costantemente per evitare atti di microcriminalità compiuti negli arenili e assicurare la tutela dell'ambiente. La campagna Littorali Sicuri 2022 con il personale anche in borghese contrasterà atti di inciviltà come l'abbandono di muzziconi di sigarette e di piccoli rifiuti sulle spiagge, oltre a prevenire forti e altri illeciti. Inoltre sono previste sanzioni per tutti coloro che fumano in spiaggia, comportamento vietato da regolamento comunale. I controlli saranno ulteriormente rafforzati con i droni che sorvoleranno periodicamente le aree meno accessibili dei litorali come la pineta di Portoferro e il lago di Baraz. Particolare attenzione sarà data anche alla prevenzione di comportamenti illeciti particolarmente gravi come il campeggio abusivo, la sosta indiscriminata dei veicoli surreale boschive e dunali e l'accensione dei fuochi per alimentare fornelli da campeggio, tutte azioni che possono causare gravi pericoli sia per le persone che per l'ambiente, con danni irreparabili alla fauna e la flora. Sanzioni pesanti e con risvolti penali anche nei confronti di chi usa gli stalli riservati alle persone con disabilità senza averne diritto e a chi utilizza i contrasseni di altre persone o, peggio, li falsifica.